Il colore rosso nuovo è vivace, brillante, lucido, il rosso antico invece è scolorito, pallido, tramortito. Sto a chi accorto perché se il mito lo dici sarò terribile, ma ricordati che mia moglie era spagnolo. Ma quanto è buono che la donna è concettiva, che vuoti, che è un consiglio, che è fermo, io ogni volta che la vedi faccio muovere tutta la nervatura, mi prende una cosa, sai? I miei amici sono i libri, la carta e la penna sono i miei parenti e... Mi fa la pari o no? Lo studio è il primo dovere del ruolo, l'uomo nasce per la scienza. Eh sì, vabbè, però non vi dovete fissare troppo con lo studio, proprio papà fa la mano, eh? Ogni tanto va a vita, pure ci va a dare un po'. Ma per esempio devo andare a fare una perizia, può venire con me? Ma quello che è bello che deve stare fuori tutta una cosa. Stai notte mi rimane da solo, Don Felipe, però devo trovare qualcuno che mi accompagna. Sì, sì, sì. Io da sola, dove vado? No, voi da solo non potete andare, la vendetta si fa sempre in due da solo, no? No, da solo. Ma se permettete quel qualcuno posso essere io, se non mi dispiace, è vero. Come si capisce che devo andare da solo di solo? Devi andare, o viva o morte devi andare da tuo fratello assolutamente. Dici un cucchiere che ha il suo marzo, mi ha tagliato e papà. E poi, faccio trovarlo così. Come sei libero? Le sente bellezza, al verbo del silenzio, strada Bergerini, c'è nel senso. Ma mi sono paletta, ne è tanto Orton. Ma rimasto in chiuso per il silenzio, ma rimasto. E come c'era la calma di questo? Ma non la patria, è molto facile. Sono rimaste libere solo queste due camere per qui stasera. Questa dovrebbe essere occupata dal penito mandato dal tribunale che vi ha fatto sapere che verrà o questa sera o domani sera. Comunque, se entro le occo non si presenta, questa la possiamo occupare. Quell'altra invece è la numero 9, allora non ci apre. Accettate. Accettiamo! Bene, da questa parte. Grazie. Non fare una proposta così tranquilla. Indovidate chi c'è stata in tacche pagale. Ma ci sta. Un nipote di vostro marito che ha la camerera mia. Spermi che l'abbascio. Vostro marito. Sto parlando da voi ma ne sciorlo caduto. Basta. 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 Basta che c'è sto solo. Già c'è rimasto mare. La menna con la cotta. Andiamo a prendere il cammino. Ehi! Guardiamo! 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 Guardiamo!